la raziopia la raziopia sbamma raga bene in questo nuovo video oggi parlamo oggi c'è da parlare tanto c'è da parlare tanto perchè qui è proprio qui veramente stiamo proprio al limite della pazienza la sopportazione sono proprio proprio al limite che certe cose ne esco più a vederle scusate me sto dicevo siamo proprio al limite sono proprio al limite della sopportazione perché tutte quante a roma a juve l'inter ermian tutte quelle che fai di sopra hanno vinto te vai cor lecce in uno stadio così difficile comunque con una boccia comunque un tifo enorme enorme ma te sei l'unica che non va a vincere perché va a perde poi cioè perde in rimonta contro un lecce che con tutto il rispetto nel primo tempo non ha giocato non ha giocato tu hai segnato dovevi fargli il secondo e non l'hai fatto perché come al solito le partite li lascia capito c'è proprio la suspense di lasciare partire proprio con l'ansia proprio il secondo tempo è un lecce che si sveglia entra in campo con altra motivazione entra in campo più agguerrito entra un lecce più più aggressivo te dormi te dormi te dormi ti addormenti proprio spegni il cervello e lecce fa due gol identici fa due gol identici perché sono tutte e due gol uguali praticamente il primo per estrefezza venta porta vuota sulla palla e mezzo e l'altro di francesco sulla palla e mezzo per colombo cioè proprio due gol identici due gol presi sulla stessa fascia di campo addirittura che allargò De Colombo in tre sul primo palo in tre sul primo palo Casale che era Casale Felipe Anderson e Lazzari Lazzari Felipe Casale sul primo palo cioè in tre sul primo palo quel palone che passa è portato a Colombo ovviamente appoggia Coffin 2-1 rimontata ma poi da lì manca a dirci sai che poi se me sbaglio che era al ho preso gol che era al 75esimo o 80esimo adesso non mi ricordo non mi ricordo insomma era comunque non era proprio finita che era al 90esimo quindi poi vorrei almeno far godere il pareggio poi almeno salvare in estremis in carcio d'angolo vorrei salvare la partita del genere invece niente manco così non te salvi manco in quel modo perché poi fai entrare Romero poi fai entrare a Marcos Antonio Vesino e più in buona spai arriviamo Vesino Cancellieri fai entrare non togli Basic togli Milinkovic non togli Basic cioè come si fa allora io dico non ha giocato bene non ha sicuramente fatto la partita che tutti conosciamo può fare Milinkovic perché Sergio è un giocatore che se sta in condizione in forma è un giocatore stratosferico 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 ma te non lo puoi non puoi togliere lui e fare il manico il pippone Basic perché con tutto rispetto io gli ho sempre comunque detto che comunque è un buon giocatore comunque è un giocatore che ti può dare quel quel cambio anche dalla panchina in più perché comunque può essere un giocatore che ti dà appunto può darti qualcosa in più però niente niente non ha stoppato un pallone non ha stoppato un pallone non ha prodotto niente e soprattutto a una certa si è mangiato il gol davanti alla porta mancino piede su lì davanti alla porta ma solo piazzarla a tenere addirittura alta manca ha preso lo specchio dalla porta ma comunque lasciamo per destra lasciamo per demobasic che già non ho parato troppo già non ho parato troppo in sto momento in sto momento senza far mercato siamo una squadra che non ha i cambi non ha i cambi perché se poi devi far giocare il mobile fino all'ultimo perché gioca tutte le partite lui gioca perché non c'è un sostituto che dici sai io fai riposo a Ciro guarda fai riposo a Ciro cioè butti lui punta vera invece ne mette i cancellieri punta che lui non è punta in esterno cioè proprio cose mamma mia proprio cose basilari basilari se hai parlato dei Bonazzoli e se hai parlato di Sanabria e qui e di là e di su e di giù Bonazzoli ad esempio Bonazzoli che c'è lo prendi in prestito lo prendi in prestito lo prendi in prestito e tappi in attimo e tappi in attimo e poi con la fascia sinistra che c'è vuole a prendere uno come Valeri cioè prendi Valeri ma che c'è fascia con Pelle scusate poi sono arrivato se volete dire ma posto su Pellegrino non so se è buono o no così a me non mi fa impazzire a me non mi fa impazzire poi perché la Juve comunque in un periodo comunque era titolare poi non so se per tutta la stagione ma in un periodo sicuramente ha fatto delle buonissime restazioni da quello comunque che ho visto che ho visto e che mi ricordo però non mi piace cioè non mi piace non è quel tersino come Lazzari che corre tutto il tempo avanti e indietro cioè a me mi serve quel tersino e Valeri è uno di quelli Parisi è uno di quelli quelli sono tersini che a Lazio deve puntare ma soprattutto più di tutti i Valeri perché è laziale e se te gli dici oh guarda vuoi venire a Lazio vieni a fare il titolare perché vieni a fare il titolare perché Mauro si ci ha adattato basta perché Mauro si ci ha divirà pure lui una riposata perché veramente adattato lui non è tersino sinistro non è tersino sinistro è tersino destro te ci viene subito te ci viene subito te ci viene subito e poi soprattutto anche Bonazzoli anche Bonazzoli che gli dici passata la serenitana a venire a Lazio te ci viene te ci viene poi per carità caso mai dice no guarda io stai non sto meglio oppure voglio stare in piazze come la Cremonese e qui ma almeno prova a prenderlo un attaccante del genere se parlavo di ma pure di prima se parlavo di salà di sì salà buonanotte di lasagna lasagna non so un piscià pure che parola le porcozze perché sto incazzato lasagna Sanabria se ne è parola per pochissima perché poi appunto Ortolino ha detto no guarda non te lo posso dare perché è importante per noi comunque un giocatore fondamentale della squadra ma proprio in generale cioè proprio non c'è proprio cioè come posso ieri proprio anche in partita proprio in generale ecco già dalla sosta prima dei mondiali che adesso rientro ho visto due partite sia con Juve che con Lecce proprio con zero voglia zero voglia di vincere la partita di giocare dopo il god di giro ieri siamo spenti cioè io per il secondo tempo stavo con mio padre e dicevo ma sono tutti fermi tutti dietro tutti dietro tutti dietro tutti tutti in area nostra stavamo tutti in area nostra loro stavano in 12 dentro l'area del rigore nostra noi attacchiamo in 2-3 cioè ma si può ma si può ditemi voi ditemi voi cioè tutti dietro a far bel giochi i tocchi e cose primo tempo primo tempo doveva finire per me se tutto andava come da mannato tutto se entrava al god di Casale doveva finire il minimo 2-0 perché c'è stato quello del primo tempo appunto l'occasionissima di Casale di Testa che sta entrando tutta la vita quel pallone ha fatto una bella parata a Falcone invece no dopo l'1-0 non hai fatto il secondo gol perché tu col secondo gol casomai tu non vai casomai se prendi il gol del 2-1 ti svegli ma anche se non fosse così ti rimane concentrato tutta la partita su tutte queste partite perché vai a giocare in campi con queste squadre che comunque la grinta cioè non la grinta cioè come le posso mannaggia non vengono manchi i termini cioè ci mette cuore ci mette cuore ci mette cuore poi ecco stando in casa con stadio loro campo loro casa loro e tu non gli puoi fare quello che gli pare perché poi succedono ste cose ma giustamente oh giustamente perché se lo tempo il Lecce ha dominato non ha giocato solamente il Lecce e ha meritato noi siamo di alzare perché se vai così a giocare con l'Empoli se giochi così con l'Empoli che il suo tempo non te li spegni un'altra volta l'Empoli è un'altra squadra che non sta là a guardare non sta là a guardare perché non ci può dire sempre bene le partite devono essere giocate fino al novantazettesimo fino al centesimo devi giocare fino a quando veramente non finisca l'arbre che finisce tutto che entra in spogliatoi non è che te spegni subito e quelli ovviamente te rimontano in casa loro totalmente spenti sono realmente spenti realmente proprio sorpassati distrutti mamma mia incredibile incredibile qualcosa di mamma mia proprio non me lo spiego non me lo spiego non me lo spiego proprio ecco si rigiuriamo subito ma voglio vedere voglio vedere sono curioso perché veramente non riesco a capire proprio perché questa squadra c'è ancora questi problemi ma scopo vuoi capire vabbè ragazzi io vi saluto sempre comunque forza Lazio sempre per sempre ma qua ci deve stare in cambiamento ci deve stare in cambio del registro perché sennò veramente va a fine ancora peggio e peggio costi cali mentali va a fine ancora peggio e peggio certe partite e c'è una conference eh ne sto passo se giochi così soprattutto che te spegni così col cluge veramente pigli le sveglie quindi svegliamo da